no no e ho spiegato una cazzo di fiaccola qua una piaschetta consente voce per il parti corrente e si va si può salire qua su no ma ce l'ho io prima non si può salire però guarda come sono bravi quei lupi perchè? ci stanno guardando perchè non sono bravi perchè aspettano perchè loro sono due vedi? no no sono quattro e appunto stanno andando 18 sotto la neve sotto la neve si si nascosti ma io regna questo e tanto mi prendo questo di maniera arrugginita ti do fuoco alla vita maiale aia what aspetti tutti lupi o sono no no ma sono tutti lupi o conosco c'è anche una pecore in mezzo è mimizzata come si faceva? come si ok hai tirato tutto fuori da quelle tage torna in un'altra spada che c'è mi chiamo ero riuscito cazzo no so se sono di nuovo dietro aspetta 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 piano stanno arrivando stanno arrivando oh dio vieni te lo dico te lo dico che bello che uno da noi arriva ragazzi aia spacco musca abbiamo ammazzato abbiamo ammazzato draghi armature budelli di maiala e ci ammazzano i nubi si loro no a me mi preoccupa perché quelli ci stanno andando il culo si stanno sottomentendo a bestia e quello è il problema secondo me secondo me si fa una finta no no questo è l'inizio di bloodworn semmo noi andare bomba qua siamo sicconiciati bellissimo infitti c'è uno qua un appartato questo ragazzi suo ma sta cagando non sai che fa la cacca sta cagando tantissimo fermo no fermo se sta andando scusa scusa me ne va me ne va ci andiamo se ci andiamo si è andato? ero guarda guarda con fare minaccioso ma io con lo scudo di ignoranza ma facci così ma sta tessi oh una sega ho avuto tutta la ricaccia in gola ho detto ho detto non sai che bella si può andare ma è come si cade dalla montagna va bene andiamo guarda è un lupo quello guarda lassù non so se è un lupo sax sax porca manada cosa cazzo di messa scusa e c'ha i capelli ma che cazzo dici ti hai bevuto in realtà no è un lupo oh porca che cazzo hai fatto perchè devi fare incazzare sempre il mondo ma volevo solo guardare su vicino perchè devi fare incazzare il mondo ma volevo vedere più vicino machi guarda come sta vicino a lui fermo fermo non ti vede se non ti muovi c'è il mantello fuori vedi il mantello oh porca manada è piccolo però eh comunque notare il fatto che è appuntato subito a te guarda caso eh no scusa scusa dai ho visto pure che cazzo fai ho visto zona bianca c'è il libro si va va sono morto no come si fa io ah ok no Saks ha chiamato gli altri lupi in che senso che c'è andato? si è diviso in tanti piccoli lupi ma che cazzo dici se n'è andato ha preso il culo e se n'è andato stava vincendo lui se ne va perchè li devi ricordare queste cose che tattica è? che tattica è? se sta a pelle o scarpe se vincendo? che scusa posso farti una domanda che tattica è tirare giù la monota per farlo scendere? porca puttana ma quello che... a parte non ho tirato io ho solo guardato la più vicina ho detto oh è il lupo ah perchè ho detto Saks ma quanti lupi ci stanno? porca puttana ma che ca... nooo che sbagliatassio che è successo? ma non mi ingarbo a un cazzo come ci guarda comunque ma è corretto ciò che stiamo facendo? dimmi di qua ma che porca puttana non riesco a prendere minchia sai un falignano è un cacciatore proprio di merda c'è con un ascio non è... non è colto nulla no fermo ma tu che si deve andare qui in fondo ti dici? in parte c'è una viarella no eh ma perchè c'è la lupa lì sopra? a destra non ci andiamo poi? andiamo a destra? se vuoi vedo vedo che vedo? ma te non è di quanto sia poetico però con il tuo mantello sai cosa ricorda? nel signore degli anelli nella compagnia dell'anello quando attraversano le montagne prima di arrivare a moria si è peccato il... il coso l'elmo no vabbè in realtà c'è dovevi mettere una tunica però andiamo io vorrei andare da là oh eeeh che vi diciamo questo? chi è? andiamo a vedere prima magari sta anche uschietto una cosa andiamo a vedere adesso ho girato anche l'ustizzito proprio dice andare a andare stronzi tanto di qua dovete passare ora lo troviamo seduto con una gratta checca in mano ma ora col culo che c'ho io quando ti seguo a te ritorno al lupo a parte che non è finita col lupo che ho fatto? ma perchè stai smoccolando i tasti? se è tanto che non ci gioco ho giocato a tanti giochi mhm perchè c'hai capito il sabbero? oh oh porca puttana pensavo che fosse una cazzata come quella del lupo che ha i capelli però è vera tu ho fatto una cazzata oh mio dio perchè picchi l'alberi? perchè picchi l'alberi? perchè picchi l'alberi? sembrava vivente ammazzalo ammazzalo sembrava vivente cazzo minchia te vedi una cosa vivente c'è lì lo stimolo assassino di ammazzarlo no vedi mo ce n'è uno pure la e non lo tocco vedi? sax? sax? che c'è? sax? gli alberi mi guardano no no io te lo dico smetti oh porca puttana minchia ritirata ritirata quanti ne hai fatto incazzare? hai fatto incazzare una foresta? io ti giuro passavo non ci credo mai e si sono girati tutti sta gottando l'albero sta gottando nede ehm fino a qua arrivo eh? ah porca puttana ma ci fa male sta cosa? cioè ci congela? eh mi sa che ci congela ah si congelamento ti giuro io passavo e si giravano io cercavo di guardare avanti non facendo finta che niente ok piano senza farci peccare dai cosi dai cavaliere ehm stiamo a scendere ok io vado avanti becco i giovellotti è quello? ti attacca ah madonna attento t'ho apparato si poi ti vai addosso a quello e ti butta proprio ovvio che non ti farò e non riesco più aspetta sci vostra e quello come è? che sceglie no madre in città città o le mine vado che sceglie città un altro albero di merda giavellotto dei devoti e c'erano altre strade percorribili è un'arma qua giavellottolo giavellottolo ma la regola la puoi lanciare allora prova un po potrebbe essere utile con il tuo stimolo di ammazzare unico e giavellottolo lanci era quello che ci lancivano loro eeeh c'è un albero eeeh aspetta fammelo non credo è una lancia giavellotto si lancia in realtà e il gioco non lo sa vedi? fa solo gli affondi non c'ha come e invece e invece mi devi dare 5 euro non abbiamo detto nulla quindi ti attacca andiamo scrivimi aspetta che ho sollevato le spade maffetta lupi maffetta lupi maffetta alberi pure dove stai andando dove cazzo stai andando non andiamo con e qui torniamo a avuto indietro tutto ok e tanto di là e intanto di là c'è solo il rastro in cui dobbiamo andare perchè c'era il nemico però andiamo scendi vai vabbè intanto passiamo no? scusa il gevellotto picchiala albero picchiala albero è bello no questo è morto questo c'è i capelli dritti vedi quindi non vedi vabbè no scusa è tutto congelato vedi però se io faccio così guarda eh guarda come si scongela e ci uccide ok perché mi aspetto l'assalto del lupo che tipo arriva e ti stacca la testa proprio sai? a mo' di griffin tipo e cerca da venire a terra che ci sta qua? è quello che ho messo io ahahah minchia te saresti facile sei no vabbè ma perchè tu non li vedi così luccicosi? cazzo dove cazzo stiamo andando scusa mi hai fatto fare il giro per ritornare al solito punto e dobbiamo... allora andiamo da questo sacco di ti non c'era più nulla vieni un attimo eh no siamo andati si in istra abbiamo iniziato no ma qui c'è la mosca c'è la mosca ti ricordi ah sto coso brutto vero vabbè dai poi si potrebbe andare no no te hai questa questa mente meravigliosa per cui immagini percorso che non ci sono no no ma perchè l'immaginazione è la forza della vita eh vabbè guarda dopo questo pensiero stacchiamo perchè è la cosa più bella che hai detto in quattro anni eh vado eh vado le altre cose no no le altre cose belle che hai detto è quando parlavi di cosa mangiavi la sera andiamo ah già è vero ti sei fatto male ti sei fatto male non ho capito perchè io si e tu no perchè io sono andato evitato a te ci sei andato si guarda come i bimbi che salutano le pozzanghere perchè c'è la neve questa che spada è? ah il cavaliere nero eh già perchè ho potenziato questa poi te non sei un personaggio stereotipato cioè hai combattuto di nulla con una cosa e poi dopo mezz'ora in cui tranci lupi alberi non lo so è neve guardi la spada e fai ma questa che spada è? è questa grande anima è perchè no ma questa l'ho potenziata però non mi ricordavo se era la crema o quello con l'altro questo è un pochino più grosso oh ci aspetta tutto sto tempo ci aspetta beh caffone oh vieni qui caffone di merda ti tiro le robe male male mannaggia l'ho cosato se c'era con me strada vero? non c'erano mai con te quasi sempre c'erano con me che mi danno? il frammento di titanito ci sei rimasto malissimo quando hai visto che non ero la porta pensavo puttana sax gli alberi sax non lo so che non l'ho mai visto stavolta non ci credo manco nel caso scusa giù cosa cazzo c'hai? c'hai un radar per gli alberi ma siamo nella zona in cui ci sono gli alberi ho detto ci sarà qualcosa da raccogliere non ci sta manco niente solo l'albero cattivo tra l'albero si mette già e c'è uno simpatico con un lupo giù che 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 e c'è qualcosa c'è fermo 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 e che si muove ah lassù sulla torre oh cazzo? t'ho preso uguale ah si era una freccia ah si è lassù ok corriamo e no e no dove corre? se passare dove sono passato io non lo attivi eh co l'hai tirato perchè ti sei fermato ne hai tirato tre ma mannaggia puttana io sono passato senza nella torre corre lei dice vai nella torre luogo stretto si combatte vabbè andiamo è congelato questo siamo sicuri si porca puttana se non provi a risvegliare ogni cosa in questo gioco hai risvegliato metà di questo mondo è un mondo che certo te ne hai risvegliato metà ma mi dispiace sono un animo buono no porca puttana la vaiala un animo buono e cazzo dalle lui il tuo animo buono mi sa che mo casco bravissimo puttana avevo paura che cascavo quindi la miglior cosa è lo attacco eh le brutte vabbè te monte muri fai assassin's kill io ho c'è una lucertola c'è una lucertola qui eh non si può salire non si può salire non si può salire c'è una lucertola qui e pigiala pigiala e sono sulle scale come cazzo piglio come si può salire ma dai sono su teo l'hai vista lucertola e non si parla è andata via no mi fa salvo e mi sono cazzo apparelo ti prego sto volta non pare minchiate vola giù bella bambina e questo è quello del travaglio di trecce noi si vorremmo andare a lato per andare su sta cosa scendere sulle scale aspetta c'è un altro piano eh si che ci sta? un cazzo no forse come ci arrivo là? dove? eh proprio io ok ci arrivi ma se mi ricordo come si salta con la fletta con l3 e cosa c'è? ascia la battaglia di millwood è la tua e e ok eh battaglia abissale no? the millwood era ah si sale nell'altro dicendo 35 ok se esci c'è una passerella di legno e poi c'è una scala di corte no in realtà è una scala di legno ma non andiamo là? alle scale ora ci va per oggi è che siamo qui mi stavo cascando giù eh ci sto che ci siano gli oggetti io non ne posso vedere dimmi te giù c'erano mentre salivano le scale qua c'è la grande anima qua nulla qua c'è un coso ok fai attenzione non ti voglio mettere pressione ma se cadi qui se mona merda nooo ceneri del capitano ah ok e con quell'arrolo puoi prendere mi pare l'armatura ah? di chi? dei capitani? eh quella lì che ci vengono i tizi ora come si scende senza smutarci non così maremma puttana troia lurida nana dio e io farei così? minchia io mi vedevo già le risate e io farei così tipo ha proprio senso o no nella torre che crolla ah ma potevamo fare scale che cretini di merda vabbè mapportanza mapportanza e ma devo tornare per la però? eh si come? usa frammento d'espa da spirale e per fo... ma se faccio... aspetta no scusa eh si no no vabbè torna cosa? alfa lo di questo mondo ok ok tu il falò l'avevi attivato la? si l'ho acceso ora oddio oddio ora ritroviamo tutti i lupi si si ma quel lupo grosso che è scappato è una onda giusta? eh infatti boh c'è che parla che parla? deve andare alla caverna parla quello è una vita solitaria è una vita solitaria eh capito che poi parla ha fatto solo a... che parla veloce eh Non hai attivato il falò, hai attivato il falò. In che senso? Hai attivato il falò. Eh, ho fatto... no, non l'ho toccato. Ok, perché quant'è sto sai? No, tutte. Allora l'hai toccato tantissimo. No, ho fatto ritorno all'ultimo falò. E c'è di nuovo tutte le... no, Saks, l'hai toccato tantissimo. Eh, ma se faccio ritorno all'ultimo falò me le ridà, eh. Come se rinizia. Facavo. Ok, piano, piano. Devo capire una cosa. Ok, fa schifo. C'era... Un atto che tirava... E l'angelo, eh. Che l'ho acceso ora. Ok. Abbiamo fatto più ignoranti, ma... In verità. Che ignoranti... Non c'era bisogno di fare tutto sto casino. No, non ho l'uno, no? Eh, ecco. no freddo no freddo in mezzo ai lupi no non lo posso fatire no sax porca p***a ma io non l'ho più visti e mondo sta freddo è mezzo ai lupi quello sei tu dai freddo è non ti butta in mezzo al branco no dove eccolo è arrivato ci sfotte non mi garba quella spada infugata smetti quando fai queste cose poi muoio io ma gli dobbiamo far capire chi comanda no? ma il piacere lo tantissimo vabbè è l'aria mannaggia no posa la piromanzia figliolo oh cos'è cosa cazzo è una che era quella cagata là? non lo so la mano con cui si sega mi sa aia cagata cazzo cagata si ma non lo prende preso 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 no grande 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 sax non si è fatto curare è preso di sun me l'ho tirato stavolta lo spadone nel culo non lo spediamo lo spirito oscuro freddo è morto io ti ho dato la boba sul cadavro beviamo ok sax mi sa che hai ragione non c'è più il luco grosso ma non abbiamo ucciso però eh lo so vuol dire che quindi è qualcosa di tipo un miniboss un boss che infatti oh è tu ma porca puttana perdimi l'ho detto è tu ma porca mu puttana mi hai fatto mangiare il collo l'ho colpito da dietro l'ho colpito però l'ho colpito però l'ho girato a telecamera c'era un cance lupo che mi stava saltando addosso ma non ci dista eh si forse no si c'è anche l'arciare aia ottima trattica sax non funziona la cosa per la corsa per aggirarla è stato bello perchè li hai urlato e poi ti sei fatto massacrare le botte tipo ma perchè volevo farli in giro tutto così solo che quello mi ha preso prima mo non volevo urlare fatto da solo cioè da solo no però ho schiacciato non volendo prima ripugliamo l'aria così si guarda in pace eh ci conviene ok te penso al lupo io penso al cavaliere eh va via va via il lupo facciamo cambia aspera cambia ancora a posto a che c'è il titolo il calcio il calcio il culo ti devo dare era il saxo c'è un saxo freccia freccia puttana, chiamala come ti pare ma dove l'ha? dalla torre eh, l'ho visto io me ne andrei di lì beh, come cazzo mi ha preso? con la freccia fare magie diamo la torre, ammazziamo la cera ero sbagliato sbagliato via ok, facciamo una cosa te sopravvivi e io vado a ammazzarcelo velocemente intanto ce n'era solo uno mmm c'è un lupo credo ti abbavisto ed è venuto da me wow non me lo direi che stai morendo no no, sono morto cosa vuoi fare? un non morto immercipato? non mi dici la cosa mi ha shottato alzando l'arma dal terreno puttana cioè ho detto mi farà un po' di danno ma non così e invece no ti ribottò il coso ehm vabbè 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 vado uccidere quello eh ricordami uccidere se vuoi uccidere tutti uccidere tutti E li ucciderò tutti. Ma, una domanda, ma poi l'hai inviata la live o no? Sì. No, è così scavo, non lo dici. Va bene. Te l'avevo detto. Ehm, non ti crederò scusa. Mago, hai messo pure che condividi il coso? Eh, lo so, ma l'ho fatto senza pensarci. Ah, poi ho preso pure Dead by the Light, te l'avevo detto? Ehm, quello del maniaco e dei tizzi che scappano. Quello è, sembra carino. Sì, è carino, è carino. No, non ci sto giocando, che lo sto aspettando. Cosa? Ah, stai aspettando Jack Pache? Oh, porra, che puttana. Eh, no, è un altro amico, l'ho preso... Claudio? Psycho? Alessio, no, no, quale è adesso? Ehm, Elite FIBA. Elite FIBA, mh. Vabbè, ce l'ho a memoria io. Anche che gli sto parlando. Sì. Ma stai morendo? Sì, tua. Io sì. Sì. No, tu no. In questo caso ci hanno l'abitudine di uscirti dal terreno, amici. Sì. Sì, abbiamo preso quello comunque, perché cercavamo un gioco alternativo. Per giocare assieme. Come abbiamo fatto pure il... Smetti di urlare contro lupi. Non funziona. Ma deve funzionare. Ma che... Perché ti... Così? Ululi. Ululi. Che se non avresti però? Stavo ululando e li hai aperto la gola. Sì. Eh sì, perché attira gli altri, come? Ah, perché ti può amputare la gola o non attira gli altri? Eh no. Gli smozzi... Come prima che ha fatto... Uh, e tu l'hai ucciso male. Wow. Sì, però la vita, la vita. Ma ce ne possiamo andare, che dici? Si offendono? No, no. Allora. Senti, ora facciamo una cosa. Ammazziamo il primo e curiamo la torre. E le anime? E si fanno con calma. Tanto non ha senso separarci. Mi sono separato da te un minuto e mezzo e sei morto malissimo. Eh, perché tu sei passato e hai attirato un lupo a quell'altro. Giustamente si sono girati e dice, dov'è? E non t'hanno visto più. E mi hanno visto a me. Vedi, io qui lo devo uccidere. No, era lui. Siamo avanti. Non devo prendere le anime, voglio prendere. Ma ci si va dopo. Quando non rischi di morire. Lo so. Simpatico. Mi sento rumori. No, ho sbagliato. Da cosa capisco che ci sei anche te stavolta nella torre. C'è già lui che sta uscendendo con l'Asha. No, Sax non è il modo migliore di affrontare un tizio grosso con l'Asha. Mi sa io. Ah. No, no, Sax non è. Non è un mi sa. Ma dai l'ho mancato, non ci credo mai. Ok. Dovrebbe esser stato questo l'Archer. No, era quello più su. Vado io. Era più su. E dove vado? No, era qui. No, era più su. No, era più su perché stavo salendo questa qui. Non lo so. Te guarda da lì. Allora, l'Archer la sta qua. Più che altro te guarda se è possibile. Qua l'ho preso prima. Porca puttana. No, ho sbagliato il tasto qui, non ci sono le prese. No, Sax. No. Sì, sì. Piano, piano. Dove Cristo? Malanciato. Porca puttana. Allontanati, mi hai fatto schiare al muro. No. Maiale come crepa. Maiale come crepa. Stai attenziti. Tenecamera di merda. Eh, sì, telecamera. Oh, sono in più. E la telecamera. Maiale, stai caduto. Ma stai a correre. Cara, vieni in sopra se c'è coraggio. Che cazzo c'è coraggio? Dimmi quando sei morto. Che metto un segnale. Andiamo con la... Aspetta. Dove cazzo è andato? Giovane? Simpatico? Dove cazzo è? Vieni? Oh. Qui di qua. Eh, vabbè. Bello se strozzo. È cadendo qui addosso. Non l'ho shottato. Come è possibile? Ti ho sfigato. Eh, parecchio. Ok. Allora, quello l'ho preso. Ehm... Vengo, eh. Vai, vai. Vieni qua la lucertola di merda. Ok. Ho preso la lucertola. Ehm... Eh, vabbè. E devo fare lo... Cioè, il... Cosa? Massiva. Ah, io non ti sto cercando, vai. Quindi... Lo so. Lo so. Sappi che lo so. Dai, su. Non lo ci metti. Hai messo già il segno, sì? Mhm. Accanto al falò proprio. Dentro il falò quasi. Mhm. Ecco. Vedi, mi ridà le cose piene, soltanto che ci torno qua. Quindi è come usi quello. Ok. Dai, non lo sapevo. Mi fa piacere vedere il fatto che siamo arrivati bloccati tipo dopo cinque minuti. Siamo rimasti? Siamo rimasti? Bloccati dopo cinque minuti di campagna del DLC. È vero. Vabbè, perché stiamo esplorando, facciamo piano, facciamo gattare... Sì, cioè... Lasciamo prendere dopo un pochino più. Ah, merda. Dai, oh. Serio, ora. Carichi. Andiamo al MAC. Ehm... 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 Come anche ho già visto? Dove sta l'altro lanciere? Eh, lo prendo io. Di dove? Di dove? Quanto è bello sto spadone, quanto. Quanto è bello saltare qui come bambino. Capirà? Ma è cascando di pezzi di ghiaccio addosso. Potremmo lasciarli vivere, volendo. Cosa? Ma anche no. No, però questo era una... Uh, molto più incazzata. Sì, uh, ci hanno l'ho cercato. Ne evitiamo di ammazzarli ancora. Sento un sbudellamento. Non so se il piangere è quello che dici. Cercavo di ammazzarla al gore. Che pelle che si strappa. No, ti immagina se Dark Souls usciva fuori col gore. Proprio quello, sai, ignorante. Mamma mia. Quello sarebbe stato... Bello. Bello, bello, bello. Ma insomma... Vai da quello, no? È tutto giallo, vai da lui. Capito perché l'ho potenziata di... Te bello. Allora, c'è il mio su. Allora, c'è il mio su. Eh, sì, perché ti vuoi esplorare. Il corpo umano. Sì, intendo su, penso... Tu. Più o meno tutto. No, fermo Saxo, dove siete? Eh, mi fa pensare. Sono addentrato. Sono addentrato. No, Saxo sta scendendo il mondo. Dobbiamo sì. Beh, l'ho fermato. Per attento all'altro bastardo. No. Pezzo di merda. Braille preso. Ok, dobbiamo scegliere. Ok, dobbiamo scegliere. Mi sono buttato dentro per t'aiutare. Ma non me l'ho tutta e due a bene. Ci sono. No, te c'è avuto quello che sono riuscito a beccarli a cazzo con un backstab. Perché tipo, ti stavo massacrando in faccia. Eh... Sì, stai a salire. Ti non sta a salire. Sì, sì, no. Sta a salire. Intanto scendo subito. Devo ammazzare piano. Vado piano. Vado piano. Butto di sotto quell'altro. Come prima. Oddio, come... Prima di me. Ok, ci ho fatta. Beh, sto volato di sotto. Arrivo. Che cazzo. Ehm... No, niente. Sono stato brutto. Cosa? Sono uscito dalla porta e ci stava quell'arciere qua. Che mi aspettava. Però era morto. Infatti poi è moruto qua. Ok, prima che diciamo quello lì senza lo qua. Non so come mai. Attento a questo qui perché è ignorante. Sì, questo è quello che mi ha shottato prima. Non so come... Sendo passi dietro a me. È possibile? Facciamo facciermi una quindi c'è la botta. Andiamo. Probabile. Uccidiamo gli ultimi. Ah, guarda quel lupo. E poi puoi prendere tutte le anime che vuoi. Gemma pesante. Manca il cavaliere. Ah, eccolo. No. Saks è vero. Vai a preso il lupo. Ok. Questa è la probabilità di Saks. Se c'è un nemico che sta mirando a me si cita per attaccare Saks. Eh, ormai siamo abituati. Però tu vedi, tu lo sai e approfitti. È giusto. Ma le anime? Che cazzo stai? Non lo so, hai detto te che c'è un nemico. Ah, qua, qua. Eh sì, sono morto qua. Ok. Ok, recuperate? Eh, sì. No. Questa dovrebbe perdere. Ok. Allora, vediamo un attimo. Questa è la torre. Eh, sì. Dovemmo salire qua. Allora, in lontananza c'è l'edificio. C'è un edificio. Non so se è il fondale oppure se ci saliva. Mi sa che ci saliva. Però dobbiamo passar di qua. Perché qui non c'è nulla. Eh, dovemmo andare qua. No? Ah, ok, sì. Eh sì. Vai tu avanti. Vado via, vado via. Ecco, vedi? C'è il lupo. Ah, sì. Ma, ah, stardo, dimmelo che... indi attimo zuro Dimmelo che l'aveai visto in uno esco. Ah, che cazzo ho visto udo giusto per Christian TupinSur ften voor Nicolas si mi stai un attimo fermo ho una tattica quale? c'ho pure io aspetta faccio fin da che sono morto aspetta aspetta un attimo no ma porca non mi stiamo stati in base non sappiamo manco dove stiamo aspetta aspetta sax ammetti caso che qui lo siamo boss cosa probabile perché ci troviamo fissi andiamo avanti se attiviamo la boss fight il tizio se ne va sax, scendi invece mica le rocce non siamo mai grazie a te come sai una grande anima guardate da dove siamo scesi lo è volo sto lupo del me sarà lui il boss ho messo che si uno non l'aveva visto effettivamente ok ci sono due strade una che porta in là e una che porta in là cerchiamo di farti trovare un palo ok ok sax c'è l'edificio lì non so se è buono da qua sax 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 sei fantasma corri dove? e tu vieni qui vieni qui vieni qui ti ho ok arrivo arrivo pezzo di merda vai all'inferno oh lo stai a fa' è andato? e noi come ci andiamo di là? non lo so è il modo migliore scusa ho dovuto improvvisare è la fine possiamo parlare così? no 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 lo ho proprio togliato di niente stavolta ah di là del lato poi da là ok termo? c'è una scala dove? c'è una scala qui senti l'obiettivo vorrei trovare un falo viene ok ah vedi c'è un falo qua vedi? ecco avevo detto c'era qualcosa qua sotto ah ok ora senti si esplora un attimo se si muoie mi dai una mano a te e si arriva a questo punto nel mio si dai però è stata bella come scena si si è caduto pure ma male ma male ah ho capito guarda il bastardo penso che salvarsi che c'è di là niente niente c'è la cosa stai picchiando ok è una lucerta che è morta momo non l'ho seguito stavolta non l'ho seguito c'è un soldato qua c'è un qualcosa ci sono tanti soldati no 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 ce l'avrei potuta fare però è meglio che veni qui tu e perché ci sta un coso luccicoso qua pietra confessionale non so no bisogna tornare indietro sì c'erano due soldati non so se erano quelli con il giavellotto non ho controllato a modo perché qualcuno mi ha urlato tipo come la ragazzina fuori fuori vieni un attimo qua ragazzina del culo lo devi prendere ma questi non so quelli no no è il mangiafoco vabbè con chi cazzo di abilità li hai ficcato la spada in bocca evitando le fiamme guarda non lo sai nemmeno te stai zitto ipocrita ho fatto la birroietta ok è l'edificio classico sì ma quello ma to eh ui 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 ci sei? ui 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 bella è stata ora facciamo non si può fare i miei occhi da hobbit ahah vedi qua no erano da herbo cura 1009 non ce l'ho da hobbit non ce l'ho da herbo io no salto ti prego non ti suicidare malissimo ora è bello è bello però guardare da qua sono tentato però sai cosa sazza? oh questo è una cazzo di arena quando? giù? eh sì eh guarda fa molto e quindi ce ne vuole ancora da herbo teoricamente non lo so c'era un messaggio sul terreno quindi ci sta che fosse come il re senza nome nel pavimento oh oh mio di queste cose sono tutte vive vero? sì vabbè vai te c'hai un talento per risvegliare le cose morte svegliate oh porca con che no ma sono storpi sei un bastardo guarda come sei sadico sei un essere di merda ma metti questo questo ti ricordo ti ricordo che l'ultimo sport che abbiamo combattuto ci ha fatto un culo come una capanna che lo vorrei ricordare cosa? l'ultimo storpio senza gambe che abbiamo combattuto ci ha fatto il culo come una capanna aspetta 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 no ma c'è uno schifo queste sono usciti a bloodbord sì è uguale e lascia uno vivo tipo questo facci facci e quando c'è i doppi spade ti devo ricordare come si faceva non sto sbagliato sbagliato ma perchè? sbagliato come? perchè mi hai scelto? ok non mi fa prendere daia brucio? non è bello un petto la calcio però oh con una bambola è un boss volevo pittare con la bambola no ferma è abbastanza ci vuole intossicare ma pure mi starei immaginando che fosse uscito un coso più grosso si ma sopra come ci andiamo no dobbiamo andare sotto e non saliamo mai su quindi no qua siamo passateggiati sax è l'unico percorso sta attendo a sinistra dice ma nel dubbio non dice nulla non dice nulla non dice nulla Quanto è brutto Dai che abbiamo fatto sandwich Perché l'hai risa in questo modo? Vole senso tattico però Quale cazzo è? Se tu vedi una notizia Oh si fa il sandwich ma lo facciamo tattico Ma porca puttana Dopo vedi Basta Quando andiamo giù ci spaccano tutti secondo me Perché l'hai buttato giù come la merda? No la domanda è perché non mi ha interrotto? Perché era divertente No c'è roba che godda Che c'è? Porca puttana ascolta i rumori e ti spacci i barilli testa Metti che sta roba C'è il tuo amico C'è tutta la casa Chi è? Non lo ammazzare Non mi ha fatto care Quindi è un personaggio Vabbè parliamo Ero molto No più che altro Cosa cazzo c'è sotto No lo vuole sapere Non chiedere Che hai detto scusa? Chi? Sono un'altra cennere se non sbaglio Io sono un'altra cennere giusto Sì Sono cennere Sì sì Brucia questo mondo come dicono le leggende Ok Ma se signora deve vedere le fiamme Non hai che dimostrargliela La fiamma no? Mi stai fruttando Mi cerca il fuoco Ok cerca il fuoco Grazie per avermi disunito Un dialogo che doveva essere tipo un minimo di Non lo so Vabbè Non ho capito Per quello che mi esce meglio Che devo fare Scusa Mi ho spaccato la cazzo Del tutto però Che fermo? Vai un attimo avanti Aspetta Chiudilo 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 Perché non c'è meno? Cosa li sto facendo? Dove lo so Mi sono messa la cosicione brutta Mi sto bulgeando il pene Ma perché la Gmina questo cuomo? Che c'ha? Beh mi sta buttando il cazzo su mano Se non ti sembra abbastanza Lo sta minando in qualche modo È vero Noi basta Poverino Poniamo fine alle sue sofferenze Ma te Cosa cazzo hai fatto? Me l'hai tirato addosso Che schifo Ma scusa Falò Non c'era bisogno però Facciamo falò Saxo Sì No di avvero No Il cazzo si è caduto Si è caduto giù Sono qua Sono qua Dove sta il falò? Allora Ma la casa destra è da dove siamo arrivati Eh sì A fianco Sono andato a vedere se c'era qualcosa C'era solo un nemico No È un altro storpio Non c'è il culo Vabbè mi tanto urla che non ti fa mai male Scherire la voce La voce Non voglio È il dito che Mi si appoggia Porca puttana Non so se sei peggio te o questi corvi Dai non si rompe sta casa Ah posso aprirla Non si apre questo lato Ebbè Allora questa porta Oh che cazzo Urla lui Sta porta si apre dall'altro lato Questa Pure Ma che fai No vabbè E che tutti dobbiamo uccidere Sì eh Questo è The Blood Boy No Sax No no Ce n'è uno Ce n'è uno che non è storpio Eh sì E mi sta colpendo solo a me Curati Sono fatto Maledetto stronzo Quello è tale e quale ha quello del Blood Boy Più o meno eh Ecco tre teste Questa qua Questo Scusi mi potrebbe dire come sempre il cancello dopo Hai detto no eh Non si apre da questo lato Ci sarà una cosa che sta da questo lato Quello non si apre da questo lato Quello pure Ah guarda siamo sopra l'arena Ah ma qua se No Eh io sono sceso Porche mi hai fatto prendere un infarto Eh no perché c'è la porta La vedi qua Entra Oh mio dio Madre della platta Oh dio Ah vabbè Gemmo scura Madonna Oh no Ah no Qua si può andare giù Non sto scherzo No fermo Sei una bestia di merda Eh certo Io Eh ma non si potrebbe passare qua No Pezzi di bestia Eh ma non si potrebbe passare qua Eh vabbè manchia ma Fammi passare qua Ma perché mi ha gaspando sto solo a me Cioè non è chiaro Vieni qua vieni qua Torna dietro Ma chi? Tu tu No non entrare là No sta pregando Entra un attimo Vieni E fa la magia Lo sto stracalizzando da buco sulla parete Sta lotando il mobile Fermo un attimo Vedete cosa succede Oh mio dio si è incazzato a bestia È la sua divinità Si è incazzato è uscito pure l'altra Saks è pieno di cosi Saks è pieno di cosi E' morto Eh ma non c'è stancazzo Penso stava cosa là No prima poi si arriva Mi hanno preso a me in altra volta No Ma dai Vabbè Ho cascato l'oggetto giù Aspetta prima subiamo un attimo No vieni qui Saks è che si apri la porta Poi apri la porta così Ah arrivo Dai che Non ho sputato manco Dove dici Vieni qui Allora prima saliamo Poi puoi scendere Regola e c'è la porta da aprire Perché c'è un nemico in casa Almeno L'ho vista Ok questo no Perché è la via dove tu bisogna andare Per salire C'è pure una lucenza Quindi Si scende in casa No Saks era una trappola Non ti sento ossicato però Eh qua si C'è la cavaliere Apri la porta E' aperto Però mi ha dato un set completo qua Una roba da capire stiava Poi non mi ricordo che cazzo c'ho Ah e non morti c'ho Ok Eh sarebbe così Capuccio e caruccio Eh guarda così Eh si Andiamo Senza barbo Allora Allora Aspetta Ok si passa da qui Eh devo arrivare Su quel tetto pure Su quale Questo Dove stai tu Sono sopra il tetto Ma è vero Si Entri Guarda Eh non vuoi entri Vedo C'è Tu Ma no Quello 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 Lì Si Non so Ci sono Eh Eh Ehm 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 non so cosa sono questi sospiri no anzi non parlare c'è una live eh no come? come se no diventa una cosa alla De Filippi è vero, è vero ah dovrei scendere da qua, non spacco tutto però o no? no come no? è l'unica? scusa questo che è il tetto? si no un momento qua e risalgo mi ammazzo nel ventrego certo non c'era niente però moneta qualcosa a me è morto attento poco poco avanti eeeh eeeh che cosa dobbiamo scendere? soltanto non vedo che c'è sta aspetta sta una porticina però sotto fammi scendere prima a me non ti conviene scendere che c'è c'è niente? no praticamente no niente di niente no miing 2 secondi il minuto un salto su tutti e arriva in fretta da te ti aspetto sul pondo il minuto è carino sto st'ambientazione qua è gelosia si è vero però a me fl waslus ciao buonasera a te o buongiorno come quello so manco ho visto quello so sono le 4 e 42 ehi andiamo ok questo è un oggetto per te e qua se puoi entrare volendo si no no l'avevo già visto anche di qua no 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 provo di salire in qualche modo sennò provo a trovare l'altra entrata ma com'è sitten che ci dobbiamo si fosse una scala economica sono non via Non so chi è colui... Ed è qua invece... Si, entra? Aspetta, aspetta... Quando il tizio va un po' più lontano... Ok, punto a questo che abbiamo davanti... 3... 1... 2... 1... Via! No, sembra di toccare proprio l'altro... Quello opposto... Ah, non lui? Ah... No... Dana... Beh, a te io non posso nemmeno aprirlo... Molto veloce tantissimo... Ma non era quello che si tratta da Bianca a te? Sì... Mh... Mh... Ma hai detto... Mh... Ehm... Dovemmo fare pezzo tuo sulla carta però... Anzi... Sicuro... Ok, mettilo te... Da me... Eh sì, che abbiamo fatto un bel po'... ... Eh... Ho fatto una... ... 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 Quanti bus stanno nel DLC? Due? O tre? Pensavo di più. No, no, questo era abbastanza contenuto. Ok, eccolo. Con la sua nuova tutina. Eh, non è bellissimissimissimo. Però è nuovo. Ce la teniamo. Invece l'altro DLC si faceva alla fine, no? Come? L'altro? DLC. Si. Per farlo devi farlo alla fine, no? Quello dei due... Si. Era l'altro falò. Ok. Come prima Sax, prima liberiamo tutta l'area. Io penso a quelli che c'hanno al giovelo 8 e penso agli altri. Ma non è che mi ha preso uguale. Cisù. Ah, vedi? Mi dovevo aumentare le piaskette. Non l'hai presa, eh? Si, si, ma io dovevo aumentare... Mettere 5 le piaskette adesso. Ma dai, ti ho preso per il nemico tantissimo, te lo dico. Aspetta, ora... Facciamo un giro a modo... Si, si. No, ma più o meno mi ricordo dove l'hai presi te. Quindi... Si, più o meno l'ho detto tutto. E queste sono prese. Andiamo, andiamo. All'albac. Imo, immo. Se win... Eh, ora ti esce il maledetto, poi. Eh, si. Ci tocca. Ok. Ah, qui mi so che però li devo far fuori tutti. Un piccolo ruolo di cosa. L'hanno fatto innappascendo, forse? Un uomo non può fare altro che sperare, vero, Sax? Eh, sembrava. Chi ha l'alulato? Sax. Eh, Sax. Ah, già. Sax, corri. Sì. Vieni, Jacob. Vieni. Se è Jacob del Twilight. Certo. Certo. Cerchiamo morire. È caduto, è caduto. Cisura. Ma non è morto. Non c'è la metà vita. Cisura. Sì. Andiamo. Maio, andate la pazza gioia. Eh, me li faccio tutti allora. Cioè, mo lo sappiamo, ma prima... Siamo cagati, però. No, prima mi ha fatto ridere perché tipo... Worry, Worry. È l'albero che mi picchia. Sì. Eh, ma sembrava... L'ho detto, sembrava giusto. Sì, ma non sono cose... Detto così non puoi prendere sul serio. Eh, no. Dio, dove c'è sta? Nulla? No. Ok, c'avevo l'otto. Nice. Andiamo. A posto. Eh, mi ha ridato pure la fiaschetta, mi ha ridato. Ah, però è bello il panorama. Fido, fido. Ah, ci viene un attimo. Eh, non ce l'ho... Niente, non puoi farlo ora. Andiamo, andiamo. Allora, io c'ho qui... Saluto le montagne... No, eh. ...che mi fanno ciare insieme alle cadette. Saluto, saluto. Meriti di essere buttato di sotto insieme agli storpi di prima. Eh, è vero. Eh, dai. Era un po' triste questa. Ok? Come il primo sexo è tutto tuo. Ma perché fa così? Questo nel mondo mio, nel tuo è uguale. Aia. Pezzo di... ...sterco. Ti hai detto, sterco o scherzo? Tutti e due. Eh, è stronzo, proprio. Vediamo che abbiamo di nuovo una torre da scalare. C'è un albero che mi ha guardato male, te lo dico. Oh, mio Dio. Che è? Ok, no. Mi stavo preoccupando che stessi attir... Ah, stai attirando tantissimo, ce l'hai dietro, Saks. No, ma non entro. Perché parlo? Mi devo ricordare quando devo parlare. Ma io ogni tanto te lo ricordo, però un po' mi pare di essere maleducato. Vabbè, tu lo dici anche quando non parlo. Indietreggia, indietreggia, indietre... Porca... E' un gioco, vedi, mo' cazzo. E che cazzo di lingua hai parlato? No. Non gioco, mo' cazzo. Invece non è cascato. Ah, io stai a cascato. Eh, mo' rimane. Cisù. Nooo. Nooo. Ho anche fallito il backstop, però. E' la fine? Nooo. M***a. Quale proverso è il calcio finale? Eh, peccato che la porto, Già. Mi vai giù, mi vai giù a prendere la lucertola. Vado io? C'era pure una cosa da raccogliere. Ah, ok. Allora si può poi tutti. Vabbè, io mi avvio. Vado. Ok, grazie. Sono andato molto molto giù, ma... Eh, io ho fatto un tanto olio. Ehm... Questo dove sta? Non l'ho visto. Ma cosa? Eh, non c'avevano in base. Ah, si merda. C'erano altri oggetti? Sì. Non lo so, forse di qua dietro può essere. Sì, qua. Eh, non ti vedo. Dietro la torre. Ok, sì. Che era? Gemma Benedetta. Sì, mi sa che non l'ho preso io quello. Cioè, mi hai guidato? Eh, perché ci sono andato molto. No, vieni qua, so che cos'è. Andiamo fuori. No. Eh, ma non torna. Ma dobbiamo solo scappare, no? A te combattisci, poi. non ci tengo. Ma... Perché sono morto io? Ma... Ma... non so perché... perché dovevo combattere. No, perché... perché... eh, era cascato il... ma sarà che... perché era già cascato tutto. Sì, esatto. Ma porca... Porca puttana, salto con l'oggetto. Dio... 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 Ah, beh, lì c'era nato... Falò. Vado a seguire. Che io non ci posso andare però, porca puttana, perché mi hanno invaso. Ah. E invece no. E invece non ci ho fatto andare. Ehm... 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 Te lo metto là il segno. Ah, sì, ma... Esatto. Ehm... Ehm... È so... Non ci sta ancora quello là? Ehm, per ora no, o anche adesso è che arrivi dall'altra parte come ti dice prima Ehm, per ora no, o anche per ora no, o anche per ora no Ci facciano il pondo stavolta Io direi che cade, forse è meglio se ci fai te Ammassati il micro Un rumore brutto No, se vuoi farlo Sax? Oh, che c'è? Taglia il punto mio via, ce l'ho dietro Dimmi se mi arriva E' fermo Mo, sto sto a togliere, a taglia lui, corri corri Oh porca è un arco quello che c'è in mano, è un arco grosso, levati Non ci prenderà mai A posto Si è buttato giù o sei andato? No, mi sa che sono andato Mi sa che qui, quindi non c'è modo per tornare indietro C'è un personaggio No, però c'è la... Qua, no? La scala No, ferma, ferma, c'è un personaggio qui Si, si, voglio dire se si può fare No, si, 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 può fare Dove lo vedi? Ah Qua dove esserci non un oggetto Ma porca puttana, sto L2 Essendo rumori non belli là dentro Ok, se vieni Eh, di qua hai preso l'oggetto Non ancora, poi non andiamo qui C'è un po' l'ho Oh, questa live salvala, perché Tra le cose dei ponti e dei lupi è stata carina Questa? Live Live Ah, eh, si, si Tanto rimane salvo Tanto scopro alla fine che Tanto scopro alla fine che, tipo Ti sei scordato di inviarla No, e c'era quello, c'è il tuo buonasera Ma qua c'è un altro personaggio Eh, qua ci devo venirlo Eh, si, questo tipo anche Non mi sei Questa non si Ma c'èilles Non mi sembra Che dice? Ho di tornare a casa in maniera gentile, però mi ho offerto un anello, perché sono il signore dei non morti, l'anello del gelo, e qui potrebbe essere effettivamente utile. Ok, ci sono delle scale, puoi non distruggere tutto. A me metti sta roba. Andiamo, andiamo, abbiamo delle scale più lunghe da scendere. Se qua si è rotato il sole non fa nulla, ho provato. Vuoi provare? Eh provate, non fa nulla. Ti aspetto ai piedi della scala. Che un tempo era un monte. Quello è là. Eh, vadi, vadi. Ok. 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 Qua merda, questo pezzo l'ho visto da Depruled, da Luca. Stai attento. Qua? dobbiamo fare un po' di freestyle tra i rami e ci sono i nemici. Ah, non fa nulla. No, non ti aspetto ai rami. No, non ti aspetto ai rami e ci sono i nemici. Ah, non ti aspetto ai rami. No, non ti aspetto ai rami. Non ho capito... Ah, da dove cazzo li tira? E qua? Da dove li sta tirando? No, non l'ho visto mai. Tu l'hai visto? Da lì. L'hai visto? No. Saks guarda... In binataria dove sto guardando... No, in basso, sull'ultimo ramo. Davanti a noi, dove sto guardando io. Ah, che hai visto? Bastardo, nessuno... C'è qualcosa dietro e ti seguo. Stai attento, stai molto attento a te. Hai, ma arriva da una fricciatura da dietro. Saks? Oh? Siamo in fondo a quella valle? Sì. Con una, tipo, arena. Oh, c'è un pallone all'in fondo. Sì, sicuro? Sì. 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 Ahia. No, Cristina. no ahia non si affronta ma anche noi eh beh ma le persone mie non si fanno un cazzo? no vabbè il mio lo sto ammazzando le botte il mio se lo pigliamo spacca no non mi toccare mai tanto no tutto è morto guarda come si fa come avevi fatto il backstub a quello? ehm non era un backstub sai è dato quello critico frontale dopo quello colpisci in bocca da che parte? ok ok si può proseguire credo da entrambe le parti effettivamente aspetta ok qua c'è il boss non mi abbia senti io direi di fare una cosa no 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 ok allora facciamo una cosa si torna te ora ti mando via ok torniamo nel tuo mondo torna al secondo falò quello in quella nicchia attraversiamo il ponte e arriviamo qui anche con te perchè così facciamo il primo boss vabbè lo proviamo a fa' oddio eh già ci sto qua ok brava c'è sì che almeno vediamo com'è il boss facciamo una prova poi stacchio stacco che non ce la faccio più eh ti vedo ce la ti sento più che eh sti giorni non sta affa' tardi 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 come il solito i tre e mezzo i quattro i quattro massimo non è che sia una cosa tanto brutta o sbagliata come non è che sia una cosa tanto brutta o sbagliata no no è più che altro mi annoiavo e comunque ti annoiavi e dormi dormi per la noia mi annoiavo mi viene sonno e mi metteva la legge l'attacco dei giganti ehm dai che punto sei ah spoiler comunque dirlo e non so se posso no vabbè vai perchè è già dopo la prima stagione ok dai il cappello del ponte di corda arrivo mi devo togliere sta sta armatura però si perchè tanto la seconda stagione non me la riesco a vedere quindi ho detto una fammola a leggere come non riesci a vederla eh non riesco il video ce l'ha con me a te lo mando io poi un link l'unica cosa ci sono sottotitoli in inglese ehm per te potrebbe essere problematica un po' ehm direi un po' e com'è audio giapponese sottotitoli in inglese? eh si io vado fisso così eh eh tu puoi ma vuoi che bella che è l'armatura l'ho presa poi se mi ero fermato un attimo a salire di livello per evita di spiegare 120.000 anime hm che armatura è? quella quella dei feneri di... quella del capitano un po' più capitano aspetta mi metto un attimo l'anello giusto per farvi vedere è bello l'elmo è da vichingo allora ora bello devo prendere pure io e non è pesante? metto dio ah porca beh l'ho visto ora il peso non lo stavo pesando eh no perchè ti fa più grosso capito? quindi deve essere pesante lo stavo le mi Dall'altra parte ci sarà un modo per venire qua però. Ma io l'ho risolto. Dall'altra parte, non so, mi sa di no, che sia una cosa per creare un minimo di problemi. Vabbè sì, tanto alla fine poi ricominci nel ponte ci sta ancora. Hai già attraversato te? Mh mh. Si è entrato nel dipinto. Come? No, perchè ha detto come sei entrato nel dipinto. S'ocusivo. Mh mh mh. Mh mh. Ok, quindi sopra... no eh. Quindi c'era nulla? No, no. Sopra non è nulla. C'erano solo casse. Non è nulla. Ma un po' mi piaccia, è pieno per vedere. Vedeste, è pieno per vedere, no? E' spiaggia, no? Sopra piazza. Sopra. 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 E' spiaggia. Ah, il giacco c'era... Ah, vado io. Meglio che il portatore non rischia morte. Che? Ok, fai come faccio io e non dovresti morire. Vai, vai, ti ho preso. Vieni qui. Ammazzo attivo. Ok, l'altro versiamo. E passiamo pure l'altro. Ok, qui c'è l'abbraccio, buono. Buono buono buono, non andare lì. Ok, qui c'è l'abbraccio, buono. Ok, qui c'è l'abbraccio. Non mi stai seguendo, vero? Sì, va per indietro. Stai attento, sta molto attento. Ok, questo è risolto. Attento dietro. Visto e sentito. Visto e sentito. Ok, vai, farò che è qui in fondo. No, è rimasto solo quello. Pace, pace. Visto e sentito. Vieni, Gatcham's alone. Ok, programma il boss. Prima di andare. Eh sì. Dovrebbe essere lupo comunque. Perché l'altro l'avevo visto. Eh, ti ho detto. Lì è Luca. Dov'è? 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 Eh, no. Ora mi dice che posso unirlo. Sì. Ci sono lupi e... E uno. Ok, vieni verso me. 6 minuti da 9 minuti da 9 minuti. Io penso al tizio. Tu pensi al lupi? No, tutti pensano a tutto. Sì. Che fa? Eccolo. Eccolo. Ok, uno è fatto. Sì. Un bel lupetto. Cazzo. Eccolo. 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 Ok, il boss vero è lui. No, in realtà è facile. Eh, quello che ha fatto non è bello. Cazzo quando è veloce. Non stiamo vicini perché quando fa quella... Quel turbine... Almeno vi chiamo... No. No, lui è chiamato io. No, più che altro c'è gli occhi rossi. E' andato il berserk. Mi sono a terra un attimo. Mhm. No, non mi vuoi far correre così, però... Ah. Pensavo peggio. Sai? Che ti ha dato? Che cazzo. Mulla, mi ha dato il medaglione solare. Ehm. 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 Dittro altro. Ehm. 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 mette qua c'è una via vuoi. Uuuuuuuuh. Ok. Buono, 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 buono. He' ottenuto... un osso. Ok. Mi fa un favore. No, non voglio fare? Ma io... Al cosa? Eh... A me è su... vai alla profondità del dipinto di nuovo mi dai la mano anche a me perchè ho cercato di guardare un attimo il suo wiki a parte il l'arma che mi ricordavo che ti dava con questo osso praticamente se lo bruci all'altare sblocchi l'arena quella per il pvp che era mai che ti dava pure valor qualcosa con valore il nome la spada la spada scudo comunque se poi ci metti il simbolo di nuovo da me almeno questo abbiamo fatto poi almeno anche se vogliamo andare di scasso a chiacchierare ci abbiamo il pvp l'arena l'hai messo l'ha piogato non l'ho visto perchè ho fatto subito il pvp la foga è sonno più che altro spada dei guardieri dipinti ma non credo è che di solito queste cose le vedo comunque mi è andato bene mi chiamassavo il tizio eh si e poi ci facciavo il lupo no no cioè no si e mi pare brutto sa che sei intanto ben tardi è giusto dimmi quando sei entrato che così almeno appena ok eccolo ok dentro ok esiste due secondi al tizio con cura come ragazzo mi hai fatto danno il girato di spalle diciamo tantissimo ora che appena tira sulla la spada eccolo ok non è fatta ora è incazzato puttana quanta vita no 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 levate lì levate lì sto tentando curati però porca puttana ammazzalo siciliano scappato e quando c'è l'occhio si un bel po' veloce c'è voglio riprovarci o vedo solo si facciamo un altro tentativo mi devo cambiare adesso però no mi servirebbe un altro cosa altro come si chiama scheggia posso? si no capito che mo' c'ho nove e due quindi diventano quattro e uno potrei manco cambiare quanto vuoi obessa? sono un idiota bracer braissimo eh bracer eh non so se vuoi dire che ci sono allora eh no ti aspetto che non so se vuoi dire che ci sono le cose che che sono non so se vuoi dire che ci 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 sono ostriopi sono andati però è di ignoranza contro lui comunque quest'arma dovresti avere sbloccata quelle? quella c'è lui c'è lui? Ah, che fai... A presto, presto. Ok, appena si rialza, l'ignoranza. Stub? No, ci ha inculato stavolta. No, merda. Cazzo. Ah, quant'è pure. Se io ti gestisco un attimo... Se io ti gestisco... Ah, è andato. Attenzione... Mi allontanerei, eh? Poco poco. Lupo di merda! Ma non si è buggato? No, le ho fatto il coso. Sembrava abbassanato. Allora, Sax, ossa del campione, cuore impavido. Ossa del campione... Ossa del campione... com'è? Cuore impavido? Guarda, è questo. Ah... Già, ti ho messo andato. Sì, l'ho visto. Devo cambiare. Cuore impavido, si diciamo. Sta tra gli scudi, sta. No, no. È una spada. È una testa. Praticamente... Quando... Seppi a me il triangolo... Come con le due spade... Solo tira fuori questo piccolo scudo... Che ho compreso. Ah, eccolo qua. Sì. C'è un nome più 36... Che fa? Moveset molto romano. Ma se uno si attacca una mano... Per effettare... Ma fuori da scuola azzaro... Qui a... A te com'è... Di fare un giga... Leonino? Leonino? Di colpire con lo scudo. Sì, è molto romano. Ah, però devi togliere lo scudo giustamente... Così così... Quello. E ti pari? Bellissimo... Quando fai l'R2... Ti esce il... Il ruggito. Con L2? Se tieni... Lo scudo parato... E fai R2. Dai... L'affondo... L'affondo... L'affondo è ruggito. Ehm... Ok... Brucio ossa il campione. Gliò, eh? Eh, all'altare... C'aveva ragione. Scontro trattando morti. Mmm... Come? All'altare quale? Quello... Normale. Cioè, dove andare all'altare? Mmm... Torna all'altare. Ok? Interagisci con l'altare. Brucio ossa il campione. Brucio? Mh... Ok... Tanto per essere... Ah, secondo me sono morti. Ok, tanto per essere sicuro. Mh... Tipo di sangue... Ah, scontro ottimo sangue... Qual era la nostra... Qual era la nostra... A suolta? Eh... ASDF, me pare. ASDF? Ah... Tu se l'avevi scritto... Eh... Prebito... Adesso... Cinerio è limitato. Ah... Adesso... Non si può usare. Quindi non devo fare niente io. Ok, per... Il duello non si può fare. Cioè... Non ti posso guidare con il duello. Mh... Però... Possiamo fare... Che figata... Possiamo fare due contro due e tre contro sei. Mh... Bella sta cosa. Sì. E mi mandi... Cioè manda l'invito? L'invito? Eh... L'invito? E' un po' 2, l'invito... L'invito? 2, mappa, la fornace, SDF come password, solo squadra alleata, avvia scontro. Alleati 0, avversari 2. Ah, che sta cercando gli avversari, giustamente. Avversari 1, qui deve pagare 1. Eh sì. Quindi non si possono usare piaschette? No, è fatto apposta, per evitare che le siano sicuri e fissa quando si invadono. Allora, sono presunti tutti spostamenti nell'arena, anche a te? Sì, a partire i caricamenti. Tanto si prova il cazzo così, tanto per vedere come viene bene. Saluta, mi raccomando. Dove sei te? Dura massimo... ...100 secondi. Eh, Mac. Quello sei tu? Sì? No. No. No, quello è il nemico. È il nemico. Ma dai, lo saluto. Ma l'altro? Eh no, una fioschetta ce l'hai però. Una. Quindi è tipo limitata. Una. Quindi è tipo limitata. La fioschetta ce l'hai visto. Non l'ho visto proprio. No, io sono qui in cima alla Torbino. Non c'è. Pezzini. Eh, l'ho ucciduto. È solo lui. È solo lui. Boh. O non è riuscito a unirsi? Ma che è tornato? No. 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 Non c'è qualcosa che... Ah, ecco perché avevi coppeggiato questo. Scusa Saks, avevi coppeggiato l'oggetto quello nuovo e... Era lento. Eh, pure io lo metto e l'ho levato. Mi sono rimesso lo spadone. Mi sa che quello non è uscito a unissimo abbandonato. Ah, però ti lascia le bombe... Ti lascia tutti gli oggetti. Ti limito solo le piaschette. Ahia. Macciata, macciata. No. Ops. Ok. Beh, ma spero che non è più possibile. Mi sembra che non c'è più pieno. Ok. Ah, quindi ho fatto bene. Ok. Ah, quindi ho fatto bene. Ok. 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 Cioè questo qua... ...mischio deve essere un casino comunque. Lo sai. Io sul... ...quà. Lo vedo. ... Voglio pure io quell'arma là. ... ... ... ... ... Ah, bastardo, mi ha fregato stavolta, è più veloce il Lush. Tipo quella là io non ce l'ho che mi apro, eh? Credo sia quella del Cavalere Nero sempre. La barda rossa... Ah, deve essere questo. No, non è questo. No, sei migliore il combattente. No, invece è quella, sia uguale. Vabbè, dai. Sano che non l'ho mai vista. Non ci ho dato peso. Non mi è piaciuta pure adesso. Abbiamo fatto un bel po' di cose. No. 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 No.